Siamo notati Gesù e Maria, le due letture che abbiamo ascoltato, ancora apparentemente diverse nella prima lettura, abbiamo visto lo zelo di uno dei grandi condottieri di Israele Pantatia, che si rivolta contro la compressione pagana e si ripete, quindi combatte e chiama l'accorto al popolo di Israele per impedire agli lenisti di paganizzare il proprio popolo, quindi abbiamo sentito dire agiva mosso da zelo nella legge del Signore, certamente con dei modi che noi nel nuovo testamento dopo Gesù non possiamo riformulare tra i quali, perché non si ammazza nessuno e anche per difendere la Santa Fede Cattolica, però rimane il messaggio che viene dato da parte di questo uomo, quindi piuttosto che perdere la propria fede, che farsi paganizzare, imbarbarirsi, perdere il contatto con Dio, bisogna essere forti e risulti. I cristiani poi non hanno combattuto in questo modo, sono stati però fermi nella fede fino all'attività, irremovibili, capaci di confessare e di difendere la verità della fede anche a posto del sangue senza, ripeto, smuoversi neanche di un millimetro. Quindi l'esempio di fortezza che questo fondottiero ebraico vive in modo adatto all'Erico Testamento, ripeto noi adesso non potremmo ribellarci in questo modo, l'ingustizia assolutamente dopo l'esempio di Gesù, però rimane l'esempio di fortezza e in ogni caso il messaggio che dà è questo, meglio unire piuttosto che perdere il contatto con Dio, la sua ingegna e la sua aveanza. Questo è chiaro. Gesù dice le stesse cose in un altro modo, in un altro modo, in un vangelo, no? Qui su questa scena drammatica del Domino Splemit che va a Gerusalemme, proprio su un moto dell'Uribe, a fianco, di fronte alla città di Gerusalemme, vede questo luogo che ricorda appunto io con me, ora è il pianto di nostro Signore, il latino Domino Splemit significa il Signore Pianzi, no? Quindi Gesù che stava arrivando a Gerusalemme dà un'occhiata alla città e scoppia in pianto, come abbiamo sentito. Perché scoppia in pianto? Perché vede la rovina di Gerusalemme imminente, Gerusalemme sarebbe stata rasa al suolo molti anni dopo, circa una cinquantina d'anni dopo, morte e risoluzione di Gesù, dal generale Tito, poi imperatore romano, e sarebbe stata rasa al suolo. E ancora oggi, come sappiamo, Gerusalemme è il teatro, mila anni dopo di sofferenze, di scontri, di tensioni. Ecco, Gesù dà una lettura teologica di questo fatto, attenzione che non è che Gerusalemme sia più cattiva di noi, perché non è la stessa identica cosa, non è riconosciuto il tempo in cui ti è stata visitata, quindi il Signore ti ha teso la mano, ti è passata oltre e purtroppo, rifiutata la grazia di Dio, ci stanno le conseguenze. Questo deve far rimanere anche noi, capite? Perché il Signore le grazie ce le fa anche a noi e quando non siamo capaci di riconoscere una grazia del Signore, una benedizione Sua, oppure non la raccogliamo, non la raccogliamo, ci vogliamo un'altra parte, e chi sta peggio se uno io mi sguolo, anche con i ragazzi del carichismo, grazie a Dio, a riproduzione di Dio, guarda che tutto quello che il Signore fa, lo fa per te, cioè se tu lo accogli, la vita va meglio la tua, non la sua, perché la vita di Dio va sempre bene. Certo, il Signore è dispiaciuto, lo ha pianto se ci vede che noi ci mettiamo in mare di guai a causa della nostra capoccia sballata, questo sì, però ha la sua vita intima, non cambia nulla, se tu accogli le grazie in ogni che ti fa, va in meglio la vita tua, se tu queste grazie te le lasci scorrere addosso o peggio non le riconosci, o addirittura conoscesse storicamente per Gesù un scambio, non c'è uno per l'anternet, pensi che Gesù è un bestemmiatore addirittura, o come lo chiamavano nei Vangeli, dicevano di fare il minaccio, il nome di Bezebul, chiamato tutto questo, so come il nostro Signore, e, so, guai, chiudi le porte ai canali delle grazie, delle benedizioni di Dio, chiuso con le porte se ne aprono inevitabilmente altre, capite perché? E Gesù dice, non è contro di me, chi non sta dalla parte mia, si mette automaticamente dalla parte di chi ti odia, dalla parte del nemico di Dio, e dal nemico di Dio ci arriva soltanto male, sotto gli ultimi punti di vista, ecco, quindi, lo stesso concetto espresso nella prima lettura, qual è la sciatura delle sciature, qual è la cosa più grave che possa succedere a noi, non riconoscere i voli che il Signore ci fa, o chiuderci a essi, qual è la disgrazia più grande che possa capitare a un popolo, la prima lettura, imbarbarirsi e lasciarsi, diciamo, defraudare e derubare la propria fede, senza dire manco, ah, anzi, dicendo benvenuti, fate tutto quello che volete, che tant'altro non ce ne importa niente. Ecco, in ogni caso, il messaggio fondamentale, che ci interpelle anche a noi è, quanto è importante per me, Dio, Gesù, la Chiesa, la mia fede, se io fossi tentato, stessi nei quali sarei voluto a morire, piuttosto di dire, rinnegare la mia fede a parole o nei fatti, senza ammazzare nessuno, ma voluto piuttosto a morire, piuttosto di dire, no, non ci credo più a Gesù, oppure non è tanto importante la mia fede. Bene, mi chiamo Maria Santissima che ci aiuti a comprendere la via della pace, come la chiama il Signore, che è la pace innanzitutto con Dio e con noi stessi e che ci viene soltanto da Lui, e di essere pronta sempre a difendere, assolutamente con mezzi leciti, ma anche con coraggio e senza nessun senso di timore, non dobbiamo avere paura dinanzi ai non credenti quali cosiddetti lanici, come se noi ci sentissimi inferiori, non ci sentiamo sul colore di nessuno, ma certamente non dobbiamo ingognarci della cosa più preziosa che c'è, che è appunto la nostra santa fede catturica. Siamo notati Gesù e Maria. Siamo notati. Grazie a tutti.